Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sono anni che si parla di presunti flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, senza mai una conferma ufficiale. Tra i gossip più clamorosi c'è quello di De Martino che avrebbe tradito Belen Rodriguez con Marcuzzi, mentre lei era ancora sposata con Paolo Calabresi. Rumors mai confermati né dai diretti interessati né da prove concrete. Tuttavia, nelle ultime ore, il settimanale Diva e Donna ha rivelato un riavvicinamento tra i due conduttori. Alessia e Stefano si conoscono da tempo e hanno lavorato insieme all'Isola dei Famosi e a tale quale show come giudici. Entrambi single, il riavvicinamento non sarebbe così strano, nonostante le indiscrezioni contraddittorie. Dagospi aveva parlato di un gelo tra i due dietro le quinte di tale quale show, ma Diva e Donna parla di un ritorno di fiamma. Durante la puntata incriminata, entrambi hanno avuto un comportamento professionale davanti alle telecamere, ma la distanza tra loro non è passata inosservata. La domanda che molti si pongono è se i due conduttori stiano solo recitando o se ci sia qualcosa di vero dietro le quinte. Al momento non c'è una risposta certa, nonostante Diva e Donna, sembri sicuro della sua affermazione. Per avere conferme...